Le tre rose di Eva 4, nona puntata, Alessandro in pericolo di vita. Le tre rose di Eva 4, anticipazioni puntata 28 dicembre, Alessandro in trappola, è da poco andata in onda l'ottava puntata delle tre rose di Eva 4, la fictio di Canale 5 con protagonisti Roberto Farnesi e Anna Safron Ciclo. Quest'ultima è tornata a vestire i panni di Aurora dopo che aveva interpretato la sua uscita di scena nella terza stagione, la serie si avvicina sempre di più al finale di stagione, mancano infatti solamente tre puntate al termine. Non mancheranno grandi colpi di scena, soprattutto nella prossima puntata in onda giornata, 28 dicembre in prima serata su Canale 5, cosa accadrà, come proseguiranno le cose tra Alessandro e Aurora, scopriamolo insieme con le anticipazioni del prossimo appuntamento delle tre rose di Eva 4. La proposta di Fabio ad Aurora nella nona puntata delle tre rose di Eva 4 vittorio non viene arrestato dai carabinieri grazie a Lucrezia, la donna infatti riesce a tenere nascoste tutte le prove, che dimostrano la sua colpevolezza. Nonostante questo primo fallimento Alessandro non intende arrendersi ed elabora subito un altro piano, il bel Monforte cerca di organizzare un incontro con Cristina Rontal, la socia misteriosa di Vittorio, e per farlo fa credere ad entrambi di essere loro alleato. Alessandro, per, non può, sapere che Cristina ha già previsto questa sua mossa e ha già premeditato una trappola contro di lui, riuscirà Alessandro ad uscirne vivo? Intanto Fabio capisce che Alessandro nasconde qualcosa e che sta mentendo a tutti, ma che soprattutto sta manipolando le persone attorno a lui, Aurora compresa. L'uomo decide Cos, di fare una proposta importante ad Aurora e il piano di Cristina Rontal nella prossima puntata Fabio farà una proposta importante ad Aurora? Di cosa si tratterà? Come reagirà Aurora? Intanto Cristina Rontal elabora una trappola ai danni di Alessandro, come finirà? Riuscirà Alessandro a sopravvivere? Non ci resta che aspettare il non imperdibile appuntamento con le tre rose di Eva 4. Grazie a tutti.